È importante capire, diciamo, di fatto queste differenze tra una tipologia e l'altra tipologia, è molto importante. Quindi riassumo, diciamo, un po' questi concetti, perché infatti è fondamentale, no? È fondamentale questo. Quindi una delle cose che devi capire quando incontro una persona è capire se questa persona è intuitiva o sensoriale, perché le persone intuitive dalle sensoriali sono completamente diverse e noi possiamo sedurle in modo completamente diverso. Non c'è un modo univoco per sedurre le persone. L'abilità del seduttore è quella di essere sia sensoriale sia intuitivo. Cioè, dicevo, il sensoriale è pragmatico e quindi se hai a che fare con una persona pragmatica devi dargli delle soluzioni pragmatiche. Non devi raccontargli di cose campate in aria, di cose misteriose, mentre l'intuitivo lo seduce, gli dici guarda che abbiamo un legame karmico, abbiamo una visione karmica. Il sensoriale è attento ai fatti concreti, l'intuitivo ha i significati, ha le possibilità, è molto importante questo. Il sensoriale resta concentrato sul presente, resta concentrato sul qui ed ora. L'intuitivo è proiettato nel futuro. Quindi anche questo è molto importante. Se vuoi sedurre un sensoriale devi parlargli del qui ed ora, devi parlargli delle cose che succedono in questo momento. Se vuoi sedurre un intuitivo devi parlargli del futuro, devi fargli intendere, diciamo, devi fargli intendere le cose del futuro. Ovviamente, come dicevo, siamo tutti un cappuccino, però questo cappuccino può essere scuro, con tanto caffè. Ad esempio, cappuccino con tanto caffè potrebbe essere intuitivo e cappuccino con tanto latte potrebbe essere sensoriale, per fare un esempio, no? Certo, ci sono persone che sono anche più bilanciate. Più bilanciate sia meglio è, ma la vera abilità del seduttore è essere sia intuitivo che sensoriale. La vera abilità del seduttore, della seduttrice, è quella di capire che persona hai di fronte, in modo tale da poterti comportare nel modo corretto, in modo tale da poterti comportare nel modo giusto per sedurre, per conquistare, per far innamorare. E questo è un punto fondamentale se tu vuoi sedurre. Il sensoriale resta attaccato alle cose che conosce già. L'intuitivo va alla ricerca di cose nuove. Anche questo è fondamentale saperlo. Se è una persona sensoriale, tu gli racconti, diciamo, un qualcosa che lui non ha mai visto, scappa, pensa che lo vuoi prendere per il culo. Invece un intuitivo si aggancia a cose nuove. Un intuitivo dirgli andiamo a fare una seduta spiritica, andiamo, che ne so, a fare qualcosa che non ha mai fatto. Una seduta medianica, una ricerca di reincarnazione, una ricerca di vita precedente, andiamo a fare un ritiro spirituale. Il sensoriale, il ritiro spirituale, non ne fotte un cazzo. Cioè il sensoriale vuole andare in un pub a mangiarsi un panino, vuole andare, che ne so, a fare qualcosa di concreto, andare a fare una gita in montagna. Anche l'intuitivo puoi fare fare una gita in montagna, ma l'intuitivo gli dirà andiamo in montagna perché quella montagna lì è frequentata dagli alieni. Su quella montagna ci sono stati tanti avvistamenti alieni. Allora andiamo lì che magari riusciamo a vedere anche noi gli alieni. Possiamo entrare in contatto spiritico con gli alieni. L'intuitivo ci va a nozze, allora viene a fare una gita in montagna. Se al sensoriale dici andiamo a fare una gita in montagna perché possiamo incontrare gli alieni, quello ti dice che sei un coglione, che ci vai tu in montagna. Al sensoriale devi dire andiamo in montagna perché facciamo una passeggiata, fortifichiamo i muscoli, respiriamo aria buona, entriamo in contatto con la natura, stiamo in mezzo al verde, respiriamo aria pura, stiamo bene. L'intuitivo, se gli dici quello, non ne frega un cazzo praticamente. Quindi è molto importante capire qual è la persona, quali sono le caratteristiche della persona che tu hai davanti, se vuoi imparare a sedurla. Ma nel frattempo iscriviti ovviamente al canale YouTube, seguimi su Instagram, carampana che non sei altro, seguimi su tutti i canali ovviamente e su TikTok ovviamente.